Ciao a tutti e a tutti, bentornati e bentornati in un nuovo vlog. Allora, a parte il fatto che stamattina sono... no, non mi ricordo, vabbè, mamma è uscita per portare nonna dall'ospedale, dal pediatra, geriatra, geriatra, volevo dire, scusatemi. E nulla, non ha concluso nulla perché ho sbagliato medico e vabbè, pazienza. Io sono stata tutto il tempo a casa e a parte il fatto che mio fratello sta appena incazzata perché ha dovuto portare papà al bagno, che se l'ha presa con me come al solito perché tanto io sopporto tutto, no? Vabbè, adesso mamma si sta rilassando di là, io adesso mi metterò un po' a giocare, aspettate se riesco a farvelo vedere. Con questo, che... sì, è un po' frantumato, però vabbè, chi se ne frega. Io sto giocando a Pokemon Ultra Luna, che l'ho anche ricominciato tra l'altro, consigliatemi come posso completare in Pokemon, perché non l'ho mai completato, però vabbè. E intanto mi inventerò qualcosa. Allora, io adesso vi saluto, ci vediamo in questi giorni, perché non so neanche quando ho voglia e tempo di registrare. Come potete vedere, comunque, le giornate pesanti sono la maggior parte del tempo. Allora, io comunque domani penso che resterò a casa, quindi forse avrò tempo per poter registrare, quindi vedrò un attimo, tanto... Scusatemi. Eh no, perché c'è botte di calore, cioè praticamente ci sono... cioè sia caldo che freddo, non so come, però vabbè. Mi sa tanto che anche ho sviluppato una certa allergia alla polvere, quindi lasciano stare. Io adesso vi saluto, ci vediamo domani, o in caso ci vediamo stasera con l'altro blog, che sarebbe quello di domani, così in caso... Vabbè, in caso ho quando ho tempo, sapete che registro. E grazie per i iscritti. E scusate se sono mezza rintronata, ma è perché mi sono addormentata a dieci minuti, che mi è venuta una botta di sonno. Oltre a quello nulla, neanche dieci minuti, neanche... Passo cinque minuti, perché mio fratello poi mi ha chiesto aiuto, come al solito, perché devo sempre io rimediare ai casi degli altri, no? Vabbè, oltre a quello nulla, io adesso vi saluto, ci vediamo quando ho tempo per registrare. E spero che a voi le giornate vadino meglio di come vanno da me. Ciao!